Il film oggettivamente è bellissimo, poi a me in particolare mi ha colpito perché mi sono rivisto io e poi ho capito bene la dinamica del cinema in generale. Mi ha colpito tantissimo sia vedere i miei soci, attori, e farmi emozionare. Fotini mi ha davvero fatto venire la pelle d'oca a un certo punto, stessa cosa Kim. Eh, ti dà un po' introverso, eh, e quindi un po' mi rappresenta per bene. Eh, ragazzo timido, e niente, mi ci rispecchio perfettamente perché lui, in questo film che ha 16-17 anni, cerca di aiutare il padre anche se è molto simile al padre. Io se continuavo da solo in cameretta non saremmo andato da nessuna parte, se invece guardo e ho Kim Ross e Stuart accanto, ovvio che imparo tre volte di più, infatti è stato un insegnamento gigante.